Weekend con gli sci anche negli impianti di Campo Imperatore, conferma l'amministratore unico del centro turistico del Gran Sasso, Fulvio Vincenzo Giuliani. Ed è già una notizia, visti i ritardi degli anni passati e le polemiche sul destino della stazione scistica, tra debiti della società, difficoltà a finanziare gli investimenti da 40 milioni di euro già disponibili, lo scontro al calor bianco tra il partito della tutela ambientale e quello che vorrebbe eliminare i vincoli che ostacolano lo sviluppo infrastrutturale dell'impianto. In questo momento c'è l'urgenza di aprire, siamo riusciti ad aprire, da sabato e domenica gli impianti saranno aperti, la gestione degli impianti rientra nella normalità e anche noi così come le altre stazioni siamo in condizione di far sciare chi vorrà nel fine settimana, con la differenza che qui però la neve è naturale. Oggi in commissione al Comune dell'Acoli è stato intanto formalizzato lo stanziamento da 120 mila euro per la manutenzione della seggiovia Fonta di Campo Imperatore e della seggiovia Scindarella. E a proposito della Scindarella, Giuliani conferma che la società in audizione alla Commissione Via della Regione ha proposto di sostituirla a lungo lo stesso tracciato. Non è che la via ha bocciato la Scindarella, siamo stati noi che in audizione abbiamo chiesto, rispettando la volontà espressa da molti, la costruzione del nuovo impianto, delle fondari, sul vecchio tracciato. Quindi in realtà il progetto di sostituzione letterale, così come è stato richiesto e noi abbiamo consentito, di fatto continua. Abbiamo espresso, tenendo conto proprio del parere, dell'opinione pubblica, di alcune posizioni molto forti che consideravano l'allungamento della seggiovia una devastazione ulteriore di quell'area, abbiamo considerato queste posizioni e ci siamo in qualche modo, non dico adeguati, ma ne abbiamo fatto tesoro riproponendo la soluzione di quell'impianto in una forma che in qualche modo è approvata da tutti.